Carambe! Gabati mamma! Gabati mamma! Gabati gabati! Andre ganre! Gabati gabati! Gamba eh! Caranato un poco Gamba il bairai Gamba il baira 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 Ibi Si la mia mamma Non ci' pixelano hanno intenzione dalla loro borsa quindi quando si ecco così noi Non, 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 non. Grazie a tutti. ma loro hanno chiuso il problema e non solo ma loro hanno chiuso e hanno chiuso hanno chiuso e magari non sceglie ma io le hanno chiuso ma ma non 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 ma 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 non non il non ci andiamo ancora non sono mai spesso adesso diciamo siamo si trova sempre alla fine qui si trova meno non sono mai e i ragazzi e i ragazzi si sovra i ragazzi non sono mai perchè la gente qui ha fatto quindi non è non è così oraa non è il limo non sono mai ma io il limo il limo è il limo il limo non è non è il limo il limo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.